Buongiorno a tutti, la mia terza proposta presentata al candidato sindaco Merino Lembo riguarda l'istituzione di borse di studio universitarie che sostengono economicamente quelli che saranno i futuri lavoratori dell'isola. Borse di studio che non si basino sull'ISE ma sul rendiconto accademico con contributi di 5.000 euro all'anno per integrare le spese di alloggio e di vitto. È arrivato il momento che il Comune investa sul futuro e sui giovani.